Cancelliamo tutto e ripartiamo da zero. Un rilancio che cerca di sparigliare le carte è quello del presidente provinciale di Flilecce, Paolo Pellegrino, che alla vigilia del congresso provinciale del PDL ripropone la grande alleanza a un patto, dice, senza candidature preconcette. Se dobbiamo ipotizzare un'alleanza nell'esclusivo interesse di Lecce, dobbiamo naturalmente partire con pari dignità e senza preconcette candidature. Ma di spariglio e dei giochi il PDL non vuol sentir parlare. Il segretario Cosimo Gallo chiarisce. Indietro non si torna, le primarie non si driblano, dice. C'è un accordo stretto fra Paolo Perrone e Paolo Pagliaro e poi lo strumento di selezione, quello indicato da Alfano, per ricercare il candidato migliore e allargare la coalizione. Primarie saranno, esiste anche una bozza di regolamento che prevede l'estensione del voto, senza obbligo di contributo di un euro, ai migranti residenti a Lecce, a tutti i leccesi con diritto di voto e ai 17 anni che saranno maggioreni il 7 maggio. La commissione per le primarie del centrodestra sarà composta da un presidente e quattro elementi, due in rappresentanza di ogni candidato. In vista dell'appuntamento del 26 febbraio, i Cristiani Uniti esprimono sostegno alla candidatura di Pagliaro. L'onorevole Gianni Mongello scrive La città di Lecce, con Paolo Pagliaro sindaco, potrà avere una prospettiva più aperta e un futuro luminoso che non può prescindere da idee nuove. La strada del centrodestra sembrerebbe essere ormai segnata dalle primarie, dalle quali non si prescinde. E allora il terzo polo allargato a Io Sud è impegnato in una doppia partita. Da un lato attende l'esito del congresso PDL, la cui linea potrebbe condizionare parecchio i posizionamenti elettorali, e delle primarie del centrodestra, visto che un'eventuale vittoria di Pagliaro darebbe fiato al dialogo. Dall'altro, e per non restare col cerino in mano, i centristi si attrezzano per il proprio candidato sindaco, che potrebbe essere ancora una volta Adriana Polibortone, per la quale anche Gianfranco Fini ha speso parole di incoraggiamento. È già stata eletta sindaco di Lecce, quindi credo che i leccesi siano già pronunciati, almeno ieri. Se lo faranno anche domani, dipenderà unicamente dai leccesi. Tuttavia ci sono dei passaggi politici da compiere e la risoluzione di nodi all'interno del terzo polo. Il dibattito sulle candidature è aperto, specie a Roma, dove l'interlocuzione fra Raffaele Fitto e Pierferdinando Casini sembrerebbe intensificarsi sempre più. Un feeling che ha motivazioni nazionali, anche in prospettiva del terremoto, che potrebbe aprire nel PDL, su tutto lo scenario politico, un eventuale ritiro di Berlusconi. Ma questo scenario nazionale potrebbe avere delle ripercussioni leccesi. E se Fini rimanda tutto ai dirigenti locali, Pellegrino assicura che qualsiasi decisione sarà collegiale. Valuteremo insieme a Adriana Polibortone come terzo polo, in questo senso siamo d'accordo assolutamente con Ruggeri e con Russo, cioè con Api e con Udc, analizzeremo se la candidatura di Adriana Polibortone, premesso che all'interno del terzo polo non ce ne sono altre, non ne vogliamo altre, se insieme con Adriana non si ritenesse di individuare quella terza ipotesi che possa dare quel valore aggiunto per raggiungere l'obiettivo. Il candidato del terzo polo allargato Iusud, le primarie del centro-destra e il congresso provinciale del PDL. Nelle prossime settimane gli scenari potrebbero cambiare e magari si conoscerà l'incognita centro.